Controllo comunicazione. Siamo vivi. Sono qui, Ethan. Quanto prima che Hendrix possa lanciare un missile? Meno di 30 secondi. Dammi un'altra strada. Giro a sinistra, poi in fondo a destra. Priccio! Abbiamo l'Aplink. Hendrix, hai iniziato la sequenza di lancio. Quanto tempo al lancio del missile? Tre minuti. Ci metteremo almeno tre minuti e mezzo. Possiamo farcela. La prossima a sinistra. Ci sarà un modo per disattivare la testata. Se c'è, sarà sul congegno di lancio. Dobbiamo prendere la valigetta. La prossima a sinistra. La prossima a sinistra. La prossima a sinistra. Grazie a tutti